Bella a tutti ragazzoni e benvenuti nel diciassettesimo episodio della serie di Minecraft Signori, buon 25 aprile a tutti quanti, buona buona festa, spero che stiate festeggiando abbastanza bene Che stiate mangiando e che stiate arrostendo, signori, io invece sono qui sempre a fare lavori Come se non ci fossero domani, signori, prima di partire il video vi ringrazio per il like, per i commenti, per i presenti e per il supporto Vi ricordo di iscrivervi al canale perché ho sempre bisogno del vostro supporto Signori, come potete vedere alle mie spalle ho fatto il ponte Cioè, l'ho migliorato rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo video E forse lo lascerò perché potrebbe essere carino questo ponte così diretto che arriva direttamente qui E magari ci dà libero accesso a questa zona di qua della base, signori, è proprio la zona degli animali La potremmo fare? Non lo so, lo lasceremo, intanto l'ho fatto, signori, perché mi stava carino farlo così Allora, noi abbiamo un solo pezzo di grano E questo è ok, ok, perché dobbiamo anche cercare le mucche, signori, nel video di oggi dobbiamo cercare le mucche e intrappolarle E questa non sarà per niente facile come cosa, però noi ci proviamo, signori, noi ci proviamo Non bisogna mai demordere, non bisogna mai demordere Intanto vediamo se troviamo le mucche, che questo già sarebbe un bel passo avanti Troviamo le crafting table così a caso Ottimo, ottimo, interessante Intanto già abbiamo nuovamente fame e questa cosa non va bene, non lo sopporto più, signori Mangiare pane significa avere fame ogni uno e due Allora, inoltriamoci un attimo nella foresta Vediamo se troviamo le nostre mucche Che, se non ricordo male, dovevano esserci in questa zona di qua Le mucche, le mucche, le mucche E' sparita Allora, vediamo un attimino la ricerca delle mucche La ricerca delle mucche, troviamo buchi, come se non ci fosse un domande Dovremmo anche andare Maiali, ecco, ma il maiale non ci serve Però già è una forma di vita, signori Il maiale è già una forma di vita Lì ho visto qualcosa di particolare Può essere che è una mucca? Mucca sei tu? Mucca sei tu? No, è un lupo Le mucche, signori, ok Abbiamo una mucca Una mucca che già è interessante Una mucca, però, non fa primavera, signori Una mucca a noi non serve A una cippa di nulla A una cippa di nulla Tutto questo mi sta seguendo con una pazza? No, in tutto questo l'abbiamo pure persa Il lupo è sempre qui, bello in agguato Che si è pronto a mangiare E se la mucca E va bene Tutto questo sta pure calando la notte Ma perché faccio le cose in maniera disorganizzata? Dico, bastava vedere Che stava calando la notte E avremmo un attimino Aspettato E ci saremmo riorganizzati Qui c'è stata una pecora Leva il grano Se no la pecora ti segue E ti rompe le scatole Altra pecora Altra pecora Altra mucca Altra mucca interessante Altra mucca interessante T'ho visto mucca Ando cazzola sei Avevo visto una mucca L'avevo vista Non ho le allucinazioni da mucche Non Ok 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 Una Però con una Io non ci faccio nulla Dovresti essere Tu inizi a seguirmi Tu inizi a seguirmi Ora mi segue pure la pecora Giustamente Dicei Perché a me A lei si A me no E mi sembra anche giusta Come ragionamento Va bene Va bene Seguitemi Seguitemi Sono il vostro uomo Eccola Eccola Un'altra mucca Ehi mucca 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 Tu 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 Mucca 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 Seguimi 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 Che c'è un'altra mucca Seguimi mucca Oh porca miseria Che mucca Ringoglionita Ringredinita Viva gli animali Signori Viva gli animali E vogliamo bene agli animali Dai che qua c'è sta l'altra Dai che c'è sta tua sorella Ma Ehi Guarda che c'ho il grano in mano Zia Non c'ho patate C'ho il grano in mano Ti piace questo grano? Ecco Mi devi seguire Mannaggia a te A chi non te lo dice pure Lo zombie Ci sta pure Ma Ora l'altra mucca Magari è sparita Giustamente Perché si è rotta le scatole Ma Mi è ringredinita Sta mucca Signore Abbiamo beccato l'unica mucca Ringredinita Ok Guarda 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 Ma la Ma la mannaggia Di una miseria Non 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 Nemmeno la spada Non Nemmeno la spada Guarda che ce le ho lì Le mucche Mannaggia Volete morire Volete morire No Se colpiamo l'enderman E' finito Signori Se colpiamo l'enderman E' finita Se colpiamo l'enderman E' finita Allora io prima di cosa Direi di mangiare Tutto questo Creeper ci è esploso alle spalle Bene 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 Di bene in peggio Signori Quelli ci stanno ancora a seguire E quando si schiotano Gli zombie E quando si schiotano Gli zombie Non si schiotano mai Gli zombie E te lepita Le scatole Mannaggia a te A chi non te lo dice pure E uno l'abbiamo fatto Dai Dai Avventure notturne La ricerca di mucche Ma è mai possibile Che a me non riesce Una cosa semplice Una cosa facile Non mi riesce mai Ok Ora Ora un ragazzo Non erano le mie mucche Ma porca miseria Ma poi Ne saranno andate Nuovamente in giro Alla ricerca Di cose più divertenti Da fare Sì Due ragni Allora signori 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 Delirio 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 Totale Ok Rapido Taglio Torno a casa Mangio Dormo Spariscono tutti Sti mostri Del cavolo E ci rivediamo Appena c'ho Le mucche Praticamente pronte Per essere Portate a casa Signori Portate a casa Mannaggia Mannaggia Che miraggiano Questi cazzola Di scheletri Mannaggia Loro Ok Signori Missione Recuperata Praticamente Siamo riusciti A tornare Sani e salvi A casa Siamo riusciti A Rifocillarci Abbiamo fatto Una spada Di pietra Perché ricordo Che non abbiamo Minimamente Più ferro E adesso Stiamo portando Le nostre Due mucchine Verso La zona Di casa Nostra State attenti A non cascare lì Perché non me posso Recuperare Ok Scenditi qua Scendete Scendete Brave Brave Sono qua sotto Ok Mi vedono Ok Questa è una cosa Già che mi vedono È una cosa importante Siete sempre in due No L'altra non mi vede più Zia Ok Adesso mi ha visto Ok Seguitemi Brave Brave Seguite Seguite il maestro Dai 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 Missione Recupera Mucche Forse c'è Stiamo a fa Dai No No Zia No No Zia 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 Guardami Dai Ho bisogno di voi Signore Ho bisogno di voi Ho bisogno di voi Dai Dai Seguitemi 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 Guarda Bravissima Sei riconvinta Facilmente Dai 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 Un passo Perchè Perchè Dico io Mannaggia A te C'ho la mucca indecisa Dai 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 Brave Abbiamo superato la zona C'è anche l'uomo degli scambi Va bene Un giorno Un giorno ci parleremo con l'uomo degli scambi Ma non è questo il momento La cosa graziosa è se per caso è andato un creeper nella piattaforma delle mucche E io gli sto andando incontro e salterò in aria appena lui appena ci avvicineremo troppo E sarebbe proprio il fail bellissimo Sarebbe proprio spettacolare Ti prego ti convinci che ce l'abbiamo quasi fatta Ragazzi rimanete concentrati Allora io l'ho fatto Perfetto Brave Brave Benite qua Bravissime Allora intanto facciamo una cosa del genere Veloce Rapido E in dolore Signore Ora poi con calma noi ci organizziamo Con calma Oh perfetto Sì Abbiamo le mucche Porca miseria abbiamo le mucche Abbiamo le mucche Allora Iniziamo a mettere la barriera Che ovviamente faremo Faremo così Sì Penso che basti praticamente questa come zona Zona di mucche Di mucche E così potremo lasciare poi l'altro cordo e il passaggio da questo lato Penso che basti Allora io mi devo lasciare uno spazzetto per scappare velocemente Me ne restano quattordici Mi basta No Non lo so Casano iniziamo a rompere il recinto E non sarà male come cosa Me ne mancano tre Va bene Me ne manca solamente Allora me ne manca una Che facciamo così Così loro pensano di essersi liberate Da questa situazione bruttissima E invece siete ancora peggio Perfetto signori Abbiamo le mucche Abbiamo le mucche Forse domani avremo anche Anche la terra Anche l'erba Perché la terra Ma ce l'abbiamo Non abbiamo Ok Ok Aspettate fatemi entrare Fatemi entrare C'è l'ho un pezzo No non c'è l'ho un pezzo di lana Ma noi sinceramente andarla a cercare Che poi rischio di Di morire male Allora Dovremmo andare a tosare una pecora Peccato che non abbiamo più Ferro per poter fare delle cesoie Peccato 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 Decisamente peccato Ok Ok Abbiamo ricoperto tutto Sì Le mucche sono all'interno Sì Vi faccio accoppiare Mucca 1 Mucca 2 Bravissime Fate il mucchino E abbiamo compiuto l'impresa Signori Bello così Bello così Bello così Le mucche ci sono Signori Detto questo Ce l'abbiamo fatta Signori Abbiamo portato le mucche a casa E io ho detto questo Vi ringrazio per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suoi genitori E per il supporto Off camera Completerò Il giro Praticamente Della struttura E poi Piano piano Andremo sempre più avanti Detto questo ragazzi Grazie Della visualizzazione Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao